FCA ha ritirato la sua proposta di fusione con Renault perché in Francia mancano le condizioni politiche. In un comunicato diffuso la Casa del Lingotto annuncia con effetto immediato il ritiro dell'offerta di integrazione da 33 miliardi di euro dopo il CDA presieduto da John Elkan che si è tenuto a Londra. Quali le ripercussioni alla Sevel di Atessa dopo le preoccupazioni dei giorni scorsi della FIOM CGL proprio su questa fusione che avrebbe portato alla produzione di un mezzo simile al Ducato e dunque potenziale concorrente. I timori sono svaniti. Alfredo Fegaterli, segretario FIOM CGL Abruzzo e Molise. I timori permangono lo stesso perché ovviamente noi ci facciamo riferimento al piano industriale della FCA, un piano industriale che ancora oggi non vede attuazione. Soprattutto la latitanza del governo su una delle aziende più importanti d'Italia è un segnale di forte preoccupazione per tutte le organizzazioni sindacali. A proposito di governo avete ricevuto risposta? No, noi continuiamo a sollecitare il governo a prendere in considerazione un'apertura di un tavolo sulla discussione per quanto riguarda la FCA. Questa cosa non sta avvenendo e noi siamo preoccupati perché anche nella vicenda di Renault si è visto che il governo francese è intervenuto in modo diciamo abbastanza pesante mentre il governo italiano ancora è latitante. E' vero che con la mancata fusione di Renault viene meno la concorrenza di questo mezzo simile al Ducato, però c'è un'altra preoccupazione che permane, cioè la produzione in Polonia da parte di PSA. E' vero, questo è uno dei problemi seri che ci sono perché a prescindere adesso di quello che è successo sulla fusione con Renault, la scelta di PSA di andare in Polonia è sicuramente un campanello d'allarme che va tenuto in considerazione. Il problema più serio è che allo stato attuale non è previsto un investimento sul nuovo furgone per quanto riguarda la Sevel. Voi avete chiamato a raccolta anche gli altri sindacati che hanno firmato il cosiddetto contratto. Beh sì, noi riteniamo che sia fondamentale che al di là adesso delle divisioni sindacali che ci hanno visto diciamo protagonisti sulla firma del contratto, quando si parla di occupazione, di lavoro, di salvaguardia dei posti di lavoro, di professionalità ma anche di tecnologie è importante che in questo caso tutte le organizzazioni sindacali facciano quadrato e tutte quante facciano praticamente sistema affinché un'azienda importante come quella dei FCA e di tutto l'indotto possa avere un futuro garantito.